Buongiorno da Andrea Cartotto. Anche oggi una piccola pillola didattica, semplice ed accessibile a tutti, per creare a distanza una efficace attività. Attività di che cosa? Un'attività di apprendimento cooperativo, il cosiddetto cooperative learning, che normalmente si attuerebbe in classe. La mia scelta è ricaduta, gioco forza, su una ottima risorsa web, nulla da installare, il cui url di riferimento, l'indirizzo internet, ricordo da digitare nella barra degli indirizzi, del browser è mentimeter.com. La risorsa è mentimeter. La prima volta, registrazione gratuita, nessuna, diciamo, pubblicità indesiderata o altro, occorre cliccare su sign up. Dal secondo accesso in avanti andremo a cliccare semplicemente su log in. Suggerisco il log in with google. e può essere un account personale chiocciolagmail.com o un account scolastico google suite, sempre di account google si tratta. Sconsiglio assolutamente login with facebook per qualche docente che volesse eventualmente far prima. Ricordiamoci sempre di interrompere questa catena di scambio dati per cui faccio sapere a facebook che utilizzo mentimeter e viceversa. D'accordo? Già accettiamo insomma di fare il log in with google così da poter utilizzare lo strumento. Inserisco il mio indirizzo email personale anche per dare la possibilità così di usare mentimeter ai docenti che non abbiano un ambiente di apprendimento in classe o in istituto. Allora vado ad inserire la mia password personale con un clic su avanti. Attendiamo il rapido caricamento ed eccoci qua, finestra principale di mentimeter. Un clic sul pulsante azzurro new presentation. Assegniamo alla nostra attività un nome che ci consenta di ritrovarla. In questo caso vado a digitare il corpo umano e un clic su create presentation. Vedremo ecco che numerose sono le proposte di attività di mentimeter. In questo però video corso desidero focalizzarmi per semplicità e anche per creare un'attività accattivante proprio sulle word cloud. Un clic. Come si utilizzano? Allora ricordiamoci che il tema è stato scelto dall'insegnante. Il corpo umano. La consegna la dà l'insegnante agli alunni. Non è mai lo strumento digitale a dare la consegna. Il digitale è mediato dall'uomo e dall'insegnante. Ciascun alunno in un termine, in un lasso di tempo che andrò a decidere dovrà andare su www.menti.com. Dovrà inserire al bisogno il numero che vede impresso sul foglio bianco e inserire il numero di parole deciso dall'insegnante per descrivere un determinato argomento. Benissimo per le materie letterarie, la descrizione di una poetica, le parole chiave di un'opera eccellente oppure l'estrapolazione dei protagonisti o del contesto. Io ho preso il corpo umano perché così con scienze. Vedremo nel nostro esempio insomma che l'efficacia è proprio davanti agli occhi. Un clic su entries per voter, cioè il numero di voci che consideriamo ammessibili, e da tre io lo abbasso a due, se non addirittura a una. Questo è il numero di parole che è possibile scrivere. A questo punto un clic su customize, che è il pulsante di personalizzazione. Su customize andremo, quando avremo deciso, quindi torneremo, quando avremo deciso che non è più possibile partecipare, per cui i ritardatari non possono più intervenire, e allora andrò a contrassegnare il quadratino close voting. Ok? A questo punto lo lascio aperto, per cui lo deseleziono, e vi mostro di fatto come un alunno partecipa con grande facilità. Mi sto, hopla, voltando, ma non mi sono nemmeno voltato per mantenere il contatto visivo con voi. Un po' come in classe, sarebbe bene non dare mai le spalle totali alla limb, perché perdo il contatto visivo con la classe, di questo parleremo poi in altro contesto. Ho preso il mio smartphone, tocco il browser mobile Chrome, e vado a digitare www.menti.com. Eccomi qua. Schermata mobile di menti.com. C'è un pulsante azzurro, mi avvicino, e sopra c'è una riga bianca in cui inserire il code. 688390. Clic sul pulsante azzurro submit. Ora, avendo l'insegnante deciso che sono ammissibili solo due termini per partecipante, io ho solo due righe bianche. Il corpo umano, vado a digitare, allora, il corpo umano si compone di... Beh, per esempio, senza dubbio, le cellule sono un elemento chiave del corpo umano. I tessuti. a questo punto vado a cliccare su submit. Ed ecco qua. Una magia, che poi magia non è, ma rende il nostro lavoro molto gradevole, perché in questo caso noi abbiamo i termini disposti in maniera casuale ma ordinata, disposti direttamente dalla piattaforma, in colori diversi, e l'alunno viene gratificato della sua partecipazione da questa schermata in cui Mentimeter mostra tanto di cuore, eh? D'accordo? Per cui, a questo punto, apro una parentesi, sembra una banalità forse il fatto di vedere un'icona colorata, un cuore, però la gamification, cioè questo impianto di matrice americana, è fatto proprio in modo tale da non dare per scontate nemmeno icone o voci di una piattaforma digitale, per rendere la lezione gioco e quindi rendere il contesto più accattivante. Vado a cliccare sul pulsante share in alto a destra e nessuno di voi però mi ferma. Ora faccio finta con piacere di interagire come se fossimo in aula, perché in realtà ci siamo detti che prima di condividere o di scaricare, per averla nella nostra disponibilità, l'attività, io devo cliccare su close voting. In basso a destra vedo il numero dei votanti, vedo che voting is closed, grosso modo in basso a sinistra nella pagina, e ora sì, considero terminata la mia attività e posso scaricarla o condividerla. Il pulsante present e la presentazione che vedete in alto a destra, a distanza fa poco comodo, ma è estremamente utile in aula perché mostro a schermo intero sulla LIM la mia lavagna con la word cloud, quindi con la nuvola di parole. Utilizziamo in questo contesto share, ok, e abbiamo a questo punto cliccando su share, una serie di impostazioni. Queste ve le mostro, per esempio participation, ci viene riepilogato il codice, ecco una notazione interessante, il codice dopo un po' scade. Per quello proprio ad inizio videocorso ho suggerito di dare un termine certo ai partecipanti e dagli alunni, d'accordo? Ad esempio, lo vedo molto bene Mentimeter come attività anche di verifico di brainstorming su un PON, cioè su un'attività trasversale alle discipline svolte in classe. Attenti bene, no participation, ma clic su results sharing, quindi sulla condivisione, ok? La condivisione ci permette di esportare il nostro lavoro in formato Excel dunque foglio elettronico, per cui non diciamo nemmeno Excel ma usiamo i termini corretti, foglio elettronico e abbiamo a questo punto una ripartizione però poco accattivante, sa di report, ma è molto interessante invece poter scaricare in formato immagine o PDF. clic su go to download center. Ecco la possibilità di scaricare il nostro lavoro, clic sul termine in blu, lo vediamo, downloadilcorpoumano.pdf per generare in automatico il download formato PDF della nostra lavagna con i termini scelti dagli alunni, formato immagine, download in formato immagine di risoluzione ordinaria o il formato high resolution, alta risoluzione. Ricordo che la nitidezza è sostanzialmente la stessa ma l'alta risoluzione ovunque sia disponibile influisce ed incide sulla stampa ad esempio o sulla stampa ancor più su un formato un pochettino più grande. Ecco la nostra splendida lavagna, metto le virgolette, dove abbiamo i termini così come elaborati dagli alunni. C'è ancora un piccolo passaggio, un clic con il tasto destro del mouse sulla lavagna, un clic con il tasto sinistro su salva immagine con nome, la scelta a sinistra della cartella di destinazione, nel mio caso ho scelto download, assegniamo il nome al nostro elaborato, il corpo umano 230320. Il formato che vediamo nella nostra tendina è un formato obbligato sostanzialmente il formato jpeg, classico formato compresso per le immagini. Un clic su salva ed abbiamo a disposizione anche uno screenshot o comunque il nostro elaborato terminato da riutilizzare, conservare in archivio. Ad esempio può essere una traccia, insomma oggi il 23 marzo ho fatto estrepolare ai ragazzi questi termini su un dato argomento, ripropongo l'attività magari a distanza di tempo e mi accorgerò, vi accorgerete di come i termini cambino sullo stesso argomento. Per cui interessante anche come attività di rinforzo, di ripasso e di brainstorming, quindi di fuoriuscita delle idee da parte degli alunni, trasversale assolutamente alle discipline. Sempre confidando di essere stato utile e soprattutto chiaro, che è francamente il mio desiderio più grande quello di rendere la tecnologia a tutti accessibile, vi saluto e vi ringrazio augurando una buona giornata.